Battle Royale Gas in avvicinamento rapido Andate nella zona sicura Dovremmo lanciarci lì Soldato nemico in arrivo Bersagli disponibili, al lavoro Piazzo una Claymore Bersagli disponibili Bersagli UAB nemico in volo Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato Soldato nemico in arrivo Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato Tutte le casse di scorte trovate Ottimo lavoro Sto subendo colpi Sto subendo Attiva un lancio d'equipazio Mediatori Movimento Sto subendo Mi sento già meglio Sto subendo 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 Contatto di bersaglio! Stazione medici! Nemico! Stazione di affinso che ha detto a tutti! Dove paura di te! Gassi in arrivo alla nuova zona sicura! Noi! Noi! 4. 4. Sono nel loro mir- Meglio curarsi presto. 4. Questo ti rimette in sesto. Ne restano 25. Stai andando bene. Restano le loro pesce. Stai andando bene… Sean off Curarivo. Stai andando bene – non sp�so. Colpi in arrivo! In piedi! Casti in arrivo! Rialzati e torna alla missione! Siamo tutti nella zona sicura. L'approvvigionamento marcato! Soldato nemico in arrivo! Stai sui posti. Alla nuova zona sicura! Stai lì! Trevi delle situazioni di acquisto ritoccati! Sì. 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 Mico caduto. Un blando perdendo terreno! Sono partito! Destinazione a tutti i soldi! Potremmo raggiungere la zona sicura! Andiamo! Spendiamo! Sto subendo colpi. Ci penso io. Sono a posto. Movimento. Qualcuno è stato qui. Razzo partito. Come misti nell'area? Regiatrice trovata. Soldato nemico in arrivo. Versaglio. Movimento. Capito. Capito. Devittile l'area. In movimento. In movimento. In movimento. In movimento. Mi sento già me. Penso io. Sono il nuovo numero. Sono il nuovo numero. Grande colpito. Vuoi tornare a combattere? Per taglio a terra. È fuoco, amico. Non è fuoco, amico. Non è fuoco, amico. Non è fuoco. Capito che prendiamoci. Sono il nuovo numero. Sono il nuovo numero. Non è fuoco, amico. Non è fuoco. Non è fuoco, amico. Non è fuoco, amico. Come non detto. Vai, vai. Lo so. È fuoco, amico. No. in movimento il lavoro attacchiato amico attacchiata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.